Le navi del dialogo, Francesco saluta con soddisfazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime imbarcazioni cariche di cereali. Ancora bombardamenti e razzi tra Israele e Palestina, si attende la tregua annunciata ma per ora risuonano le sirene antimissili uccisi nei raid israeliani. Gli uccisi salgono a 36. L'Italia divisa tra l'anticiclone dal centro-sud e le bombe d'acqua del nord. In Val di Fassa ancora si scava sotto il fango mentre a Torino un uomo è morto nella sua automobile schiacciato da un albero caduto. Gli italiani e il Covid, ancora pochi contagi ma sono sempre tanti quanti hanno a che fare con le conseguenze dell'infezione, il cosiddetto Long Covid. Buonasera, lo avete sentito nei titoli, Papa Francesco ha mostrato soddisfazione per le navi cariche di prodotti alimentari, grano e cereali soprattutto salpate dai porti del Mar Nero. Le ha definite segni di speranza. Pierluigi Vito. Partono finalmente, alla volta di numerosi paesi a rischio di crisi alimentare, le navi cariche di cereali dell'Ucraina. Un momento tanto atteso e accorto con soddisfazione da Papa Francesco che, in questo passo, vede la possibilità di un viatico per accordi più ampi. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere i risultati concreti che ci vanno tutti. Pertanto, tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza e auspico di cuore che, seguendo questa strada, si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare una pace giusta e duratura. Un auspicio condiviso certamente da quanti sono arrivati in Piazza San Pietro questa domenica, come nelle precedenti, con la bandiera ucraina. Lo sguardo del Papa nel dopo Angelus non abbraccia solo il Mar Nero, ma pure la terra di Spagna. Oggi è la giornata culminante del pellegrinaggio europeo dei giovani a Santiago de Compostela e Francesco rivolge loro un ringraziamento e un incoraggiamento. Con gioia benedico ciascuno dei giovani che hanno partecipato e benedico anche quanti hanno lavorato per organizzare e accompagnare questo evento. Che la vostra vita sia sempre un cammino, un cammino con Gesù Cristo, un cammino verso Dio e verso i fratelli, un cammino nel servizio e nella gioia. In Ucraina nella notte 40 razzi hanno colpito l'area antistante la centrale nucleare di Zaporizia, danneggiate casi, case condotture e reti elettriche. Antonio Soviero. Partita da Acro, Romorosca a sud di Odessa alle 6.31 di questa mattina è diretta in Italia con un carico di 6.000 tonnellate di olio di semi di girasole. La nave cisterna Mustafa Nekati è la prima delle quattro imbarcazioni salpate oggi dall'Ucraina con prodotti agricoli. Delle altre tre, due trasportano mais e sono dirette in Turchia. L'ultima, con a bordo 45.000 tonnellate di semi di girasole, naviga verso la Cina. Queste immagini testimoniano che i russi stanno rispettando l'accordo raggiunto a Istanbul con la mediazione dell'ONU e della Turchia. Sul campo, invece, l'esercito di Putin continua a martellare l'est-ucreino. 16 civili uccisi in 50 bombardamenti sulle regioni di Donetsk e Mikolaev. Qui gli invasori sostengono di aver distrutto un arsenale con 45 tonnellate di munizioni che l'esercito ucraino aveva ricevuto dai paesi NATO. I russi continuano a scherzare col fuoco atomico. La scorsa notte, le forze del Cremlino hanno sparato 60 razzi sugli insediamenti costieri ucraini tra Nikopol e Zaporizia, sede della più grande centrale nucleare d'Europa. Un missile ha colpito un impianto di stoccaggio del combustibile nucleare, danneggiando anche i sensori che misurano le radiazioni. Ferito un lavoratore della centrale. Gli uomini del Cremlino negano, come sempre, e accusano gli ucraini. L'agenzia atomica internazionale è sempre più preoccupata. Kiev sta indagando su 26 mila casi sospetti di crimini di guerra per i quali accusa 135 persone. Mentre ad oltre cinque mesi dall'invasione sono più di 3 milioni e mezzo gli ucraini senza casa. Ancora bombe e missili tra Israele e la striscia di Gaza. La Gia di Islamica ha confermato l'accordo di una tregua con Israele che partirà dalle 23.30. Marco Burini. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Continuare non serve, dice il premier israeliano Lapid. Ma se non liberate uno dei nostri non se ne fa niente, ribatte la Gia di Islamica palestinese, che tra arresti e uccisioni ha perso diversi capi. Questa è l'ora della tregua annunciata dopo tre giorni di intensi bombardamenti israeliani su Gaza e lanci di razzi su Israele. Ma la situazione è terribilmente ingarbugliata, esasperata da anni di guerre più o meno lunghe, più o meno sanguinose. Finora i palestinesi uccisi sono 36, diversi miliziani ma anche una decina di civili, centinaia i feriti. Tra le vittime sei bambini, ma la portavoce del premier israeliano dice che quattro sono morti per l'esplosione di un razzo nel campo profughi dove vivevano, durante un tentativo di lancio fallito. Questo non consola certo i genitori che si riversano disperati sulla tomba dei figli, mentre si registra qualche ferito tra i cittadini israeliani, protetti dal sistema di contraerea Iron Dome, che ha intercettato quasi tutti i razzi lanciati dagli estremisti islamici, che oggi hanno provato a colpire anche Gerusalemme, dove i militanti di estrema destra di potere ebraico hanno visitato il Monte del Tempio, ovvero la spianata dalle moschee, nel giorno di Tisha Behav. Invece il capo della jihad islamica palestinese ha fatto visita al presidente iraniano, Ayatollah Raisi, nemico giurato di Israele. L'Egitto puntava a mediare e sembrava fosse riuscito a convincere le parti, ma in questi momenti le sirene antimissili risuonano a Tel Aviv ed intorni, mentre da Gaza dicono che stasera due attacchi israeliani hanno fatto otto morti, tra cui i bambini. Sono stati i razzi difettosi della jihad, ribate Israele, ma il problema è che nessuno vuole mettere da parte le armi. Intanto a Taiwan vengono organizzate due esercitazioni di artiglieria a fuoco vivo con proiettili veri su larga scala del sud dell'isola per testare la prontezza al combattimento di fronte alle crescenti minacce militari di Pechino. E adesso a Cuba, nella città di Mantazas, dove è esploso un deposito di carburante a causa di un fulmine e si è sviluppato un incendio definito dai media locali pauroso. Sarebbe morto un vigile del fuoco, mentre sono 17 le persone disperse e oltre 100 i feriti. Il maltempo che ha colpito il Trentino Alto Adige, la situazione sta tornando sotto controllo in Val di Fassa dopo la bomba d'acqua di venerdì sera, ma il maltempo d'agosto colpisce anche in Piemonte e Sardegna. Beatrice Bossi. Il palazzetto dello sport di Chivasso nel Torinese è stato scoperchiato dal vento e inondato dalle piogge. Un'ordinanza del sindaco lo ha reso temporaneamente inagibile. Domani ci saranno i sopralluoghi per verificarne la stabilità. Il Piemonte è tra le regioni più colpite da quest'ultima ondata di maltempo. Il comune di Pino Torinese piange anche una vittima. È un tassista di 56 anni, travolto da un albero mentre lavorava. Illesa la passeggera per lui non c'è stato nulla da fare. In Trentino Alto Adige il temporale ha concesso solo qualche ora di tregua. Il tempo di dare alle ruspe la forza di spalare tutto il fango venuto giù dalla montagna. Pensavamo un po' di fango ma non così tanto. Non è solo fango ma sassi veramente grossi e servirebbe uno scavatore. Quindi abbraccio per una bella fatica. Questa è la Val di Fassa. L'acqua e i detriti hanno travolto un casotto, sommerso le strade e inondato le abitazioni. Il lavoro dei vigili del fuoco non si è mai fermato. In Sardegna invece la pioggia ha rinfrescato all'improvviso il pomeriggio dell'Ogliastra. Queste immagini le ha girate il primo cittadino del comune di Ussassai in provincia di Nuoro che ha postato sui social anche questa foto. Chicchi di grandine, grandi come palline che hanno distrutto coltivazioni e danneggiato terreni. Domenica assegnata da partenze e viaggi per milioni di italiani ma anche tanto caldo, soprattutto al centro-sud Alessandra Camarca. La domenica del grande esodo è arrivata confermando in pieno le previsioni di traffico su autostrade, caos negli aeroporti e agli imbarchi dei traghetti. In questo agosto, nel quale si stima che 22 milioni di italiani, secondo l'ultimo studio Coldiret XE, prenderanno la via delle vacanze, rimanendo nella maggior parte dei casi entro i confini del bel paese, il primo weekend del mese si è dimostrato essere la prima scelta della stragrande maggioranza dei vacanzieri in partenza. Tra le criticità che troveranno gli italiani nei loro spostamenti spicca l'emergenza idrica in Valferrè e a Courmayère, rimasta senza acqua dopo il danneggiamento dell'acquedotto in seguito alla frana. Siamo senza acqua, attualmente non abbiamo ricevuto delle disdette, solo qualche cliente che ha chiesto informazioni e delucidazioni, qual è la problematica e che cosa si aspetta nei prossimi giorni. Sulle autostrade da Bollino Rosso e Nero non si sono registrate emergenze, tranne al confine italiano con la Slovenia e i rallentamenti e le code dovuti agli incendi sulla 1 e l'A14. Problemi invece si sono registrati all'imbarco di traghetti a Genova, dove le code sono iniziate fin dalle prime ore del mattino agli imbarchi. Anche a Roma è iniziato l'esodo verso le mete turistiche, oggi la capitale è apparsa deserta, anche in pieno centro storico, presenti solo i turisti pronti a sfidare il caldo torrido della metropoli in cambio della grande bellezza della città eterna. La scelta più sofferta della sua carriera politica l'annuncia in televisione dopo ore di silenzio. Carlo Calenda rompe il patto siglato con il Partito Democratico solo pochi giorni fa per correre insieme alle prossime elezioni per sconfiggere la destra e il populismo e difendere l'agenda Draghi. Letta commenta alla fine dell'accordo con un tweet, mi pare che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda stesso. Ieri il tragico incidente in Croazia con un autobus di pellegrini polacchi diretto a Međugorje è finito fuoristrada, 12 le vittime, oggi il cordoglio del Papa durante l'Angelus. Luigi Ferraiolo. È di 12 morti il tragico bilancio dell'incidente sull'autostrada Budapest-Spalato avvenuto ieri in Croazia quando un pullman di pellegrini polacchi diretto a Međugorje è uscito dalla corsia per poi schiantarsi in un fosso. L'urto è stato molto violento, nessuno dei passeggeri sopravvissuti è rimasto in il leso e accanto ai 12 morti si contano anche 18 feriti gravi, alcuni in condizioni molto critiche e altri 14 lievi. Quasi tutte le vittime, come anche i feriti gravi, erano seduti nella parte anteriore del bus. 11 persone sono morte sul colpo e un'altra in un ospedale croato. Le ambulanze sono state chiamate da uno dei pellegrini intrappolato sotto le lamiere dell'autobus. Le scene descritte dai soccorritori erano terrificanti. Lavoro come pompiere da quasi 30 anni e non ho mai visto una strage simile, ha raccontato uno dei vigili del fuoco visibilmente scosso. Una tragedia che ha colpito anche Papa Francesco che ne ha parlato all'Angelus. Ho preso con dolore la notizia dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in Croazia. Alcuni pellegrini polacchi diretti a Međugorje hanno perso la vita, gli altri sono rimasti feriti. La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari. Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella storia della Croazia. Il bus era partito da Varsavia con destinazione al santuario Mariano di Međugorje. A bordo c'erano anche tre sacerdoti e sei suore. Il governo polacco ha subito inviato una squadra di medici e psicologi per assistere i feriti. Le cause dell'incidente non sono ancora note. La polizia croata ha aperto un'inchiesta. Nuovi sbarchi sulle coste italiane. Tre imbarcazioni, due delle quali alla deriva sono state soccorse questa notte dalle motovedette della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, fra le 16 e le 5 miglia dalla costa di Lampedusa. All'hotspot di Contrada in Briacola ci sono al momento 1.089 persone a fronte di 350 posti disponibili. Sono oltre 26.000 nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, 74 alle vittime e sono moltissimi gli italiani che hanno a che fare con il cosiddetto Long Covid. Cesare Cavoni. Il Covid non finisce mai. Lascia spesso su di noi gli effetti nefasti del suo passaggio anche a distanza di mesi o anni. È quello che viene chiamato Long Covid. Molti sintomi, spesso pesanti, che ci restano addosso anche quando l'infezione si è esaurita. Il cosiddetto Long Covid o persistenza dei sintomi oltre la fase acuta fino a sei mesi e oltre è una realtà clinica che si è identificata fin da subito nel corso della prima ondata nel 2020. Riguarda non soltanto gli adulti ma anche, seppur in maniera minore, l'età pediatrica. Si caratterizza per una serie piuttosto eterogenea di sintomi che vanno dalla facile stancabilità alla difficoltà alla concentrazione, il cosiddetto Foggy Brain o cervello annebbiato, le alterazioni dell'olfatto e del gusto, la difficoltà alla respirazione e anche alterazioni di natura cardiaca. Attualmente sono 21.200.000 le persone ufficialmente contagiate dal virus dall'inizio della pandemia ad oggi, mentre la percentuale di pazienti che accusano stanchezza cronica a distanza di almeno tre mesi dall'infezione si aggira tra il 55 e il 60%. 2.800 sono invece i pazienti visitati e assistiti nel laboratorio post-Covid del Policlinico Gemelli di Roma e sono in tutto 100 gli ambulatori ospedalieri individuati in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità per trattare i casi di post-Covid. Altro capitolo importante è quello dell'evoluzione del Long Covid, vale a dire i tempi di guarigione. L'evoluzione di questi disturbi è per lo più benigna e tendono a risolversi, anche se è importante che le persone che ne soffrono vengono monitorate e seguite presso i centri del Long Covid che sono presenti in tutto il territorio nazionale. Tantissime persone si sono ammassate questa mattina sul sito di una nuova eruzione della fessura vulcanica situata in una valle disabitata a circa 40 km dalla capitale dell'Islam. Dall'eruzione iniziata mercoledì riguarda un vulcano che lo scorso anno ha riversato colate di lava per sei mesi. Dalla California arrivano immagini incredibili. Il surf, che è uno sport molto diffuso, ma questa volta i protagonisti sono i cani in una gara pensate giunta alla sua quarta edizione e i cui ricavati vanno ogni anno a una fondazione che aiuta gli animali abbandonati. Uno spettacolo in Umbria con decine di mongolfiere che si innalzano in volo e riempiono di coloro il cielo. Federico Plotti. Lo scenario è quello dei campi e delle campagne umbre, tra Gualdo Cattaneo e la meravigliosa Todi. Colline coperte di verde, terreni coltivati con ancestrale sapienza, borghi millenari. L'Umbria si scopre dall'alto, parte dei suoi cieli azzurri solcati da oltre 100 mongolfiere. È la principale tappa estiva dell'Italian Balloon Grand Prix, che si concluderà il 7 agosto prossimo. Ogni giorno gli equipaggi, tantissimi quelli stranieri, si alzeranno in volo con le loro mongolfiere, sfere colorate tra cielo e terra nel cuore verde dell'Italia. Il paesaggio unico dell'Umbria, unito al cibo, al vino, alla storia e alle tradizioni antiche di una regione dalle mille facce è tutta da scoprire. Successi della nazionale italiana agli europei di para-archery che si svolgono a Roma. 14 le medaglie conquistate dagli azzurri, 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi che valgono il primo posto nella classifica per nazioni davanti a Turchia e Gran Bretagna. Importante affermazione in vista dei prossimi giochi paralimpici di Parigi nel 2024. E a proposito di campioni olimpici, Sandro Cuomo, oro nella scherma d'Atlanta nel 1996, ha dimostrato di saperci fare anche con la chitarra. L'ex atleta si è esibito con Piero Viti, chitarrista napoletano e denso matrone a ventotene, suscitando l'apprezzamento del pubblico presente. Vediamo e sentiamo. Si vediamo, campione di che? Per chi non lo deve essere conosciuto? Non di chitarra. Lui dice non di chitarra, in realtà è anche un campione di chitarra, ma lui ufficialmente è un campione di spada, olimpico, campione olimpionico, campione di tutto, è un campione. Cittite la nazionale, di tutto di più. E questa sera eccezionalmente per voi ha la chitarra. E' tutto, il nostro telegiornale termina qui, subito dopo di noi, Sol, ospite di Monica Mondo, questa sera padre Vittorio Trani. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.